Salve, ambasciatore Kosh. Volevo assicurarmi che sapesse della conferenza di domani, sa, sul problema dei rifugiati in armi. Ero dalle parti dell'hangar 13 poco fa, ho visto la sua nave. È davvero favolosa. E mi sono reso conto di quanto poco sappiamo su di lei, sulla vostra cultura, sul suo popolo. E stavo pensando che dovremmo passare un po' di tempo insieme. Conoscerci meglio, in modo da avere una migliore comprensione fra di noi. Perché? Me lo dica lei. Mi è apparso in sogno sulla nave aliena qualche settimana fa. E sembrava... Non so come se mi chiamasse. Io cercavo comprensione. Ho ascoltato il canto. I suoi pensieri sono diventati il canto. Era mai successo, prima d'ora? Una volta. E un po' di tempo. Grazie a tutti.